Buongiorno, seconda edizione della nostra rassegna stampa TG News 24. Andiamo subito a collegarci con la polizia locale di Udine in collegamento. Il vice ispettore Sandro Favotto per notizie relative alla viabilità più che al traffico, visto che di traffico in questo momento è davvero difficile parlare perché gente in giro ce n'è poca, ma ci sono sicuramente notizie importanti da comunicare ai cittadini. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi sì. Avvio, come diceva appunto, avvio di mattinata con traffico decisamente ridotto, ecco un po' ovunque, su tutte le principali arterie cittadine e quello che emerge dalla visione delle immagini delle diverse telecamere di videosorveglianza dislocate nei vari punti della città, che è un po' la caratteristica di questo periodo, come ben sappiamo. Ecco, traffico che risulta decisamente scorrevole senza che si riscontri alcun tipo di problematica, perlomeno fino a questo momento, riguardante la viabilità. Viabilità che nel prosieguo odierno non dovrebbe essere penalizzata in modo significativo da cantieri stradali o d'altro. Ribadiamo la chiusura dei parchi cittadini su ordinanza del sindaco e la gratuità della sosta nei parcheggi a raso a pagamento. Dalla Polizia Locale di Udine è tutto, ecco una buona giornata a tutti voi. Ringraziamo il Vice Ispettore Sandro Favotto per queste informazioni, sottolineiamo una delle ultime che ci ha dato, cioè la chiusura dei parchi cittadini, questo perché un po' come tutti i sindaci nelle città più grandi hanno fatto, si stanno chiudendo le aree verdi, le aree al pubblico, quelle che è possibile chiudere sono naturalmente quelle recintate, quelle che non sono recintate vengono costantemente controllate però dalle forze dell'ordine, affinché non ci siano assembramenti di persone, affinché non ci siano persone anche da sole che senza un giustificato motivo si trovino al parco pensando di trascorrere qualche ora all'aria aperta. Non è proprio il caso, bisogna rimanere a casa, scusate il gioco di parole. E allora andiamo a vedere, tra un po' andremo con le previsioni meteo dell'Osmer, ma andiamo a vedere invece che cosa scrivono le pagine web delle agenzie, dei siti di informazione più cliccati del nostro paese. Cominciamo con l'agenzia ANSA, dove c'è una foto di Conte al lavoro, costantemente, quotidianamente, ora per ora, per fronteggiare e risolvere i problemi che si stanno presentando di continuo per effetto dell'emergenza coronavirus. Nella notte è stato firmato la mattarella il decreto Salva Italia, 127 articoli, e in questa giornata di informazione andremo ad approfondire i vari temi, i vari capitoli di questo decreto. Ma intanto andiamo a vedere, per quanto riguarda l'ultima ora, il coronavirus, naturalmente, sta cominciando a rispandersi anche in altri continenti, in Sud America, il Venezuela, per esempio, ha chiesto degli aiuti, ma il Fondo Monetario Internazionale li ha negati perché non c'è chiarezza sul riconoscimento internazionale del governo, e quindi vanno ad intrecciarsi problematiche di natura politica con l'emergenza coronavirus. Vedremo come andrà a finire al Venezuela. sono stati negati degli aiuti per la sua situazione instabile in questo momento. Ma andiamo a parlare adesso invece di meteo, perché c'è il collegamento con l'Osmer, andiamo a sentire Livio Stefanuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, questa notte abbiamo avuto il passaggio di un po' di nervosità sulla nostra regione, ce l'aspettavamo tra ieri sera e metà della notte circa, ieri sera tardi abbiamo avuto anche qualche debolissima pioggia sulle Alpi Giulie. E poi questa mattina aria secca in quota, e quindi il cielo è bello, sereno su tutta la regione. Temperature sono rimaste le minime un po' più alte rispetto a ieri, proprio per l'effetto di questa nuvolosità per la prima parte della notte. Quindi valori attorno ai 4 gradi positivi in pianura, attorno ai 5 nel fondo valle per Alpini. Temperature di poco sotto lo zero, soltanto a Piancavallo, a Sappada e nel Tardisiano. Temperature piuttosto positive, alte anche in quota, con un zero termico al di sopra dei 2.500 metri circa. Oggi il cielo rimane a sereno tutto il giorno sulla nostra regione, soltanto nel pomeriggio potrebbe esserci la formazione di qualche cumulo, comunque innocuo, sulla fascia pealpina. La novità è che le temperature salgono, temperature massime in pianura, fino a forse localmente anche oltre i 20 gradi, attorno ai 18 gradi, atto al mezzo, quindi anche nei fondo valle prealpini temperature decisamente miti, temperature attorno ai 16 gradi invece sulla costa, il mare è ancora piuttosto fresco. Anche domani è una bella giornata, col cielo che rimarrà permanentemente sereno, o al più poco nuvoloso, la formazione appunto di qualche cumulo sulla fascia prealpina, quindi su montagna nel pomeriggio, ma direi cumuli assolutamente innocui come quelli di oggi. Un po' di vento di brezza domani, brezza un po' più sostenuta rispetto a oggi, con temperature con valori simili, quindi con valori minimi attorno ai 3-4 gradi in pianura e temperature massime attorno ai 20 gradi in pianura sul fondo valle prealpini, attorno ai 15-16 gradi invece sulla costa. È tutto, buona giornata. Grazie, grazie a Livio Stefanuto. Io ho dunque bel tempo, sia oggi che nei prossimi giorni, domani, sulla nostra regione, e vedete anche queste belle immagini che arrivano da Promoturismo, con le sue webcam live sul territorio, il cielo completamente libero da nuvole, una bellissima giornata di sole, che quest'oggi alliterà il fluo di Venezia Giulia, anche se purtroppo non sarà possibile goderne dal vivo. Accontentiamoci di queste immagini, ma rimanete a casa per cortesia. Andiamo avanti con le notizie. Abbiamo visto il sito dell'ANSA, adesso andiamo su TG.com 24 per vedere le ultime ore. Ci sono notizie che arrivano dagli Stati Uniti, sia per quanto riguarda i contagi, che salgono ad oltre 6.000, ma questo è l'aspetto relativo al coronavirus, ma ci sono anche le primarie per le presidenziali negli Stati Uniti, con Trump che ufficialmente è il candidato repubblicano e dunque si ripresenterà al voto per un secondo mandato, mentre dall'altra parte tra i democratici e Biden, che si avvia a diventare ufficialmente lo sfidante dopo aver vinto in Florida e Illinois, oltre che in Arizona, e sarà lo sfidante di Trump, salvo clamorose sorprese nelle ultime votazioni rimaste, l'ex vice di Obama ha staccato Bernie Sanders e prepara la campagna contro Donald Trump. Eccolo qua, Biden, secondo super martedì di primarie dei democratici, è stato vinto da questo uomo qui, ex vice di Obama, che adesso sfiderà nel prossimo novembre, a meno che non ci siano negli Stati Uniti slittamenti dovuti ad emergenza di coronavirus, sfiderà Donald Trump per la presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump, presidente uscente, candidato per un secondo mandato. Continuiamo la rassegna web con la Repubblica, vediamo anche il titolo della Repubblica sul digital, ma che troveremo anche sull'edizione cartacea, che tra un po' andremo a sfogliare insieme, intervista a Papa Francesco, non sprecate questi giorni difficili. L'intervista di Repubblica al Pontefice e ancora Corriere della Sera, Mattarella firma il decreto cura Italia, è stata pubblicata un'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, datata il 17 marzo, inottata la firma del decreto, che diventa dunque immediatamente esecutivo, le norme scattano subito, tutto ciò che c'è da fare si inizierà a farlo già da questa mattina, ed ecco una bella immagine di uno dei palazzi governativi, Palazzo Chigi, in questo caso, con il tricolore sulla facciata, con l'illuminazione per il tricolore sulla facciata del palazzo. Andiamo in basso a vedere altre notizie, c'è proprio la foto del decreto firmato dal Presidente della Repubblica, il testo integrale è definitivo, lo si trova un po' dappertutto su internet, una manovra poderosa, si attivano 350 miliardi, così il Premier Conte, ecco tutte le misure, il decreto e il nodo della sicurezza nazionale, la gara per il 5G, il rischio che vinca la Cina, e qui andiamo anche su altri argomenti. Andiamo a vedere la Gazzetta dello Sport, che ci parla in apertura del piano per salvare il calcio, entro l'estate del 2020, entro il 30 giugno la chiusura dei campionati nazionali, e poi Euro 2021, spostato di un anno esattamente di 364 giorni, visto che bisognava iniziare, sarebbe dovuto iniziare il 12 giugno di quest'anno, si inizierà l'11 giugno, ma del 2021. Poi Rebus Calendari, si parte a maggio, tutte le opzioni, club in crisi, contributo dai giocatori, i giocatori potrebbero ridursi lo stipendio, per fronteggiare anche la crisi, alla quale sono andate incontro le società, con lo stop dei campionati, mancati incassi, per quanto riguarda diritti televisivi, ma forse quelli si riuscirà a recuperarli, giocando tutta la stagione, ma mancati incassi allo stadio, sponsor che vanno via, è tutta una serie di difficoltà che sicuramente il calcio deve affrontare in questo momento di crisi. Andiamo adesso sui giornali, ed eccoci sulle prime dei quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera apre con la stretta che si richiede per chi va in giro senza una giustificazione. L'ordine del Biminale, in Lombardia controlli sulla rete dei telefonini, l'Unione Europea confini esterni chiusi, anche qui la foto del palazzo istituzionale con il tricolore sulla facciata, come potete vedere, allora il decreto è stato firmato dal Presidente della Repubblica, con la firma si parte immediatamente con i provvedimenti che punteranno a risollevare l'economia italiana, a fronteggiare la crisi adesso e poi farla crescere di nuovo, speriamo, non appena la crisi sarà cessata dal punto di vista sanitario. Repubblica punta invece sull'intervista al Papa, non sprecate questi giorni difficili, è il virgolettato dell'intervista che poi si sviluppa all'interno del giornale, intervista a Francesco, è vero quanto ha scritto Fabio Fazio su Repubblica, dobbiamo ritrovare la concretezza delle piccole cose verso chi ci sta vicino, un piatto caldo, una carezza, un abbraccio, ritornare a parlarci, poi lo scontro sui tamponi da fare a tappeto, ma per farli ne servono ben 800.000, i contagi sono più di 26.000, i decessi 2.503, appello della protezione civile, restate a casa, ennesimo doveroso appello. Il Fatto Quotidiano, che invece titola su quello che sta avvenendo a Napoli, 249 dottori malati immaginari, non solo eroi, ma anche disertori, il direttore dell'emergenza del Cardarelli, paura Covid, certificati medici fasulli per stare a casa, per loro provo solo commiserazione, beh, speriamo che vadano a stanarli, e che scatti anche ovviamente qualche denuncia, in caso di certificazione falsa. La stampa, virus, conte, studia la chiusura ad oltranza, il Premier all'Unione Europea, un patto contro il contagio, chiede il finanziamento di un fondo di garanzia, per proteggere i singoli stati, il Sud insiste, qui serve l'esercito, via libera al nuovo ospedale di Milano, parte la sperimentazione del farmaco anti-artrite. La Spoon River di Bergamo, nei necrologi giorni di dolore, qui delle immagini degli spedali civili di Brescia, nel pre-triage, che si trova appunto all'esterno della struttura ospedaliera, per dare una prima assistenza, a chi si presenta con sospetti sintomi da coronavirus, e di evitare che entri in contatto con il resto della struttura ospedaliera. Sono state installate delle tendopoli all'esterno degli ospedali, anche nella nostra regione, a Dudine, ma anche alla Tisana, come abbiamo documentato nei giorni scorsi, con i video della protezione civile, incaricata di questo servizio. Il giornale è titola, con la pioggia di soldi, che è arrivata sulla Lombardia, da parte di imprenditori, in questo caso Berlusconi ha dato il via con 10 milioni di euro donati per l'emergenza, hanno fatto seguito Agnelli, Lavazza, Barilla, Ruffini e compagni, e corsa ad aiutare. Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, dice che siamo in ritardo, abbassiamo subito le tasse. Dal giornale andiamo sul Gazzettino, che si concentra nell'apertura sulla situazione dei controlli, quarantena violata, carcere, epidemia, stretta del biminale sui divieti, chi è positivo e circola rischia fino a 12 anni. Anche Zaia invoca maggiore rigore, stop alle passeggiate, anziani non uscite di casa. Poi, qui cerchiato in verde, il dato del giorno nero in Veneto, con 392 nuovi malati, ed altre 12 vittime. Il manifesto, l'assedio, qui la foto di una delle scene che stiamo vedendo spesso in questi giorni, 345 nuovi vittime, 3.500 nuovi contagi negli ultimi 24 ore. La curva epidemica cresce, ma non accelera. Bergamo, epicentro del virus, ed è al collasso. Non ci sono più posti letto, crisi anche in altre città. Gli ordini dei medici, ora sono chiari, i danni dei tagli, e alla sanità pubblica. Il foglio, andiamo a vedere sotto la testata, quanti giorni ci vogliono, prima di dire che un paese è libero al 100% da un virus, il protocollo usato per Ebola e SARS, in un'occasione simile, ma non completamente sovrapponibile a quello che sta succedendo adesso. Il nord si arrangia da solo, titola libero, ha aiutato tutti, ora nessuno lo soccorre, in tanti cittadini hanno donato milioni alle regioni per arginare l'emergenza sanitaria, grande gara di solidarietà, tra i più generosi berlusconi, caprotti, ruffini, agnelli, 10 milioni a testa, effetto decretino, più soldi ai clandestini che ai lavoratori autonomi. E poi Conte in questa foto dice siamo un modello, libero replica scrivendo record di morti, e lo fa con la firma del direttore editoriale Pietro Senaldi, che è stato nostro ospite lunedì sera, e proprio su questo tasto ha battuto, ha detto non siamo stati abbandonati, magari fossimo stati abbandonati, difendosi alla Lombardia, avremmo fatto delle cose prima in questa emergenza, per esempio si parlava del discorso dell'ospedale, che adesso si sta effettivamente mettendo su per fronteggiare la mancanza, la carenza di posti letto nelle terapie intensive. Qui siamo sulla verità, dove il titolo è il ritorno ai confini, ma non per i migranti, oltre 30 mila casi in Italia, migliaia di multe a chi viola la quarantena, l'Unione Europea si blinda all'esterno e all'interno, presto respingeremo i francesi e gli austriaci, con l'incredibile eccezione dei richiedenti asilo, purché non premano le frontiere greche, non minaccino la Germania. Col virus arrivano le nazionalizzazioni, le nostre imprese rischiano. Al centro la foto di Bonafede, Ministro della Giustizia, dopo le rivolte nelle carceri, per i carcerati c'è un indulto mascherato. Chiudiamo con il Sole 24 Ore, dalla segna sui nazionali, il Sole 24 Ore parla della mossa della Federal Reserve di Trump, con i mercati che vanno subito in ripresa, la chiusura delle borse è stata positiva ieri sera per quanto riguarda le borse non europee, vedremo l'apertura questa mattina di quelle dalle nostre parti, dalle infrastrutture, la fase 2 dell'Italia per ripartire, conta ora i Covid bond europei, l'Unione Europea studia nuovi interventi. Questo il Sole 24 Ore, andiamo adesso sui giornali locali, il gazzettino, partiamo dalla prima pagina di nuovo, dove abbiamo visto dell'appello innanzitutto a maggiori controlli, addirittura al carcere per chi vive dalla quarantena, ma in basso vediamo invece dell'avvio della nuova terapia per battere il Covid-19 a Monselice, nell'ospedale provinciale della provincia di Padova, che è stato individuato come ospedale di riferimento per combattere il Covid, il Covid Hospital della provincia padovana. C'è stato un miglioramento abbastanza transitorio per quanto riguarda l'utilizzo del Tocilizumab, che è il farmaco che combatte l'artrite reumatoide, ma anche gli effetti collaterali delle immunoterapie in campo oncologico. La sperimentazione è stata avviata a Napoli con buoni risultati dal dottor Paolo Ascierto, che abbiamo intervistato lunedì nei nostri speciali del Tg, e si parte anche in altri ospedali, tra questi anche a Monselice. C'è stato un miglioramento, purtroppo non dal punto di vista clinico, i benefici non sono stati tali da permettere di stubare i due pazienti, però questa sperimentazione dà dei risultati, seppur parziali, incoraggianti, per quanto riguarda non la sconfitta del Covid-19, perché non sconfigge il virus, ma ne cura gli effetti, le conseguenze, in particolare la polmonite intersiziale. Andiamo avanti con il gazzettino per vedere la pagina della dorsale su Friuli, virus il giorno più nero, 8 morti, le vittime del Covid-19 sono salite a 30, tutte persone affette da patologie pregresse, sono 394 i pazienti contagiati, nuovi casi positivi registrati in tutta la provincia, da Marano a Premariacqua, al Gemonesi, a Osoppo, Sappada e Malborghetto. Qui al centro la foto di due operatrici sanitarie, calano i contagi, ma crescono sia i ricoveri in terapia intensiva che i deceduti, ieri 8 morti. Parco del Cormor, via al restyling, si parla anche d'altro, questo è quanto è stato stabilito ieri dalla Giunta Municipale. Poi un'altra notizia importante sul fronte della cultura, del patrimonio artistico e culturale della città di Udine, il dipinto del Caravaggio resta in Castello, il dipinto San Francesco che riceve le stimmate e che sarà incomodato d'uso a Palazzo d'Aronco. Andiamo avanti, vediamo sempre per la pagina del Friuli altre notizie, 8 morti in un giorno, positivo medico di base, e i casi di positività hanno toccato quota 394 con 104 pazienti ricoverati, 28 in terapia intensiva di cui 5 arrivano dalla Lombardia e 222 Friulani in isolamento domiciliare. La guerra al contagio, operatori sanitari esposti al coronavirus, anche Udine registra il primo caso di positività di un medico, di medicina generale, poi le cifre che abbiamo già letto, numeri che salgono anche per quanto riguarda i deceduti che sono in tutto 38 in più rispetto al giorno precedente, quindi i casi positivi che si registrano nella giornata di ieri sono 10 con 4 persone del Gemonesi, 3 per Mariacco e 3 ad Osoppo, dunque casi che continuano a crescere anche se il numero, la curva rallenta, almeno nella giornata di ieri abbiamo registrato un rallentamento dei contagi nella nostra regione. Andiamo sul messaggero di Udine, l'apertura del quotidiano della sua edizione principale, quella della città e della provincia di Udine è questa, tamponi più rapidi, arriva una nuova apparecchiatura che ridurrà i tempi degli accertamenti, ieri soltanto 8 contagiati, la regione è il giorno che segna il dato minimo sull'aumento quotidiato dei contagi, si presta a installare una nuova apparecchiatura che permetterà di stringere i tempi di verifica delle positività. Vediamo anche la parte di cronaca che riguarda Udine e provincia, eccola qui, venerdì parte la disinfezione di strade e marciapiedi, questo per quanto riguarda la città di Udine e poi nonostante i divieti conducenti degli autobus ancora troppa gente in giro e poi il sindacato di polizia, gli agenti, fate il test anche a noi e poi c'è questa foto che mostra artigiani che lanciano un messaggio di speranza, noi non molliamo, questa è la prima pagina del messaggero, vediamo anche la prima della dorsale di Udine, strade, piazze e marciapiedi da Sanificare al Via Venerdì, l'intervento era 40 mila Euro, andiamo a vedere invece a Pordenone dove l'apertura è uguale a quella di Udine, cambiano soltanto le notizie di cronaca che andiamo a vedere ed anche qui di spalla la posizione alta è occupata dalla disinfezione delle strade che si farà anche a Pordenone e una lotta sempre più serata agli assembramenti e poi la difficoltà a tornare a casa dal Vietnam a Cuba, come è difficile rimpatriare per i pordenonesi attualmente all'estero e poi si ferma un cantiere per il nuovo ospedale un altro cantiere che si ferma si ferma anche quello del nuovo ospedale di Pordenone effetto dell'emergenza coronavirus a Pordenone una dottoressa trovata positiva in ospedale mentre risulta grave un 44enne il virus entra anche in base ad Aviano dove è stato segnalato un caso ci spostiamo da Pordenone a Trieste con il piccolo in arrivo 100 militari al confine e al maggiore 21 sanitari positivi andiamo da quest'altra parte a vedere il piccolo di Gorizia dove la prima parte del titolo di apertura è identica a quella dell'edizione di Trieste ma la seconda parte invece parla della prima vittima a Monfalcone prima vittima tra i contagiati di coronavirus e poi invece la dorsale di Gorizia dove si parla di altro con la vendita di 100 alloggi Ater sfitti e locati e un incasso potenziale di 8,5 milioni per il comune di Gorizia andiamo a vedere adesso per le pagine sportive subito il gazzettino vediamo di sport che cosa pubblica oggi il quotidiano diretto da Roberto Papetti l'apertura della pagina sportiva è dedicata alla notizia dell'europeo che slitta al 2021 il rebus su come e quando assegnare lo scudetto la UEFA ha ufficializzato la decisione di rinviare di un anno la Kermes premio per dare priorità a Champions ed Europa League resta il nodo dei campionati resta da sciogliere il nodo dei campionati per quanto riguarda lo sport non c'è altro da segnalare sul gazzettino dunque ci spostiamo sul messaggero di Udine per vedere le pagine dedicate allo sport anche in questo caso la notizia principale è quella della UEFA che rinvia gli europei per la Serie A resiste alla voce playoff e playout è una voce sulla quale insiste in particolare il presidente della FIGC Gravina andiamo a vedere altre notizie si parla dei due nuovi positivi in Serie A con Zaccagni dell'Elas Verona e Matuidi della Juventus risultati positivi la comunicazione ieri sera soltanto in A adesso sono 13 isolamento per l'Udinese a meno 5 terminerà domenica 22 ma l'AIC spinge per la ripresa degli allenamenti il 3 aprile in quarantena fino a domenica l'Udinese e Bianconiere lavorano a casa con programmi personalizzati l'AIC vuol prolungare lo stop delle sedute di gruppo su consiglio anche dei medici sportivi anche altri sport che si stanno organizzando in qualche modo per andare avanti il CIO ancora non molla per quanto riguarda le Olimpiadi gli atleti si allenino le Olimpiadi si faranno con oltre 4 mesi davanti non servono decisioni drastiche il presidente Bach però istituisce una task force con l'organizzazione mondiale della sanità e poi la decisione che riguarda il cammino della fiaccola verso Tokyo che si svolgerà senza pubblico e questo è uno degli effetti del coronavirus poi Coach Boniccioli parlando di basket vede oltre la pandemia arriverà uno tsunami prepariamoci l'ex allenatore di Udine la ripresa dei tornei pensiamo piuttosto a capire che la crisi manderà in tilt tutto il movimento questo è il messaggero di Udine vediamo se c'è qualcosa sulle pagine di Pordenone per quanto riguarda il Pordenone non ci sono non ci sono articoli per quanto riguarda i ramarri sull'edizione pordenonese del messaggero le pagine di sport ovviamente in questo periodo sono in forte riduzione perché gli argomenti scarseggiano se non quelli legati al coronavirus andiamo sulla gazzetta che comincia a fare le varie che riepiloga tutto quello che è stato deciso ieri in sede UEFA ed anche le prospettive in Italia il 2 il 9 o il 16 maggio 2020 per l'apertura della fase di Serie A che dovrebbe condurre alla conclusione del campionato con l'assegnazione dello scudetto ma anche dei posti Champions Europa League e la definizione delle retrocessioni dalla A alla B e le promozioni dalla B alla A via libera titola la gazzetta poi l'altra data è quella del 24 giugno 2020 per la finale dell'Europa League e del 27 per la finale della Champions League l'11 giugno 2021 invece è la data fissata la nuova data fissata per i campionati europei la nazionale di Mancini giocherà dall'11 giugno 2021 la Serie A potrebbe ripartire il 2, 9 o 16 maggio per terminare a fine giugno o a luglio con tanti turni infrasettimanali evidentemente poi finale Europa League il 24 giugno quella di Champions il 27 qui un po' di protagonisti da Dybala immobile Lautaro Martinez e il Papu Gomez ma c'è anche altro sport non solo calcio quindi andiamo a vedere di Federica Pellegrini che si prepara vorrebbe partecipare alle Olimpiadi Pellegrini stile Tokyo in diretta Instagram vola sui 100 53 e 6 un test della Divina in allenamento e olimpiche domani ci riprova anche sui 200 giochi al buio a giugno si decide per le Olimpiadi c'è anche l'ipotesi di rinvio al 2022 quindi rinvio di un anno anche per le Olimpiadi staremo a vedere tutto sport anzi di due anni andiamo su tutto sport dove ci sono Sadia e Guardiola testa a testa quarantena con Peppe poi la foto di Matuidi che è l'altro calciatore della Juventus dopo Rugani risultato positivo sotto la testata la campagna del tutto sport io resto a casa non godo al coronavirus e poi ce la faremo Iagnelli e Silvio 20 milioni contro il virus il medico Granata in prima linea a Pesaro col Toro poi Pablito Italia campione mondiale di coraggio lui che è stato l'emblema dei mondiali del 1982 e quello qui lo vediamo con la moglie Federica Cappelletti sorridenti entrambi un messaggio di speranza anche da un grande campione dello sport e poi le storie raccolte da tutto sport Juventus 56 Caroli gol greco e poesia il tripletere del 2010 a Madrid notte da pazza Inter lo scudetto del 79 Milan il derby e la stella ed infine ogni giorno c'è tutto quiz 30 domande a tutto campo insomma iniziative anche da parte dei giornali per continuare a tenere compagnia ai lettori nonostante non ci siano cronache sportive da raccontare ma soltanto approfondimenti e notizie legate comunque all'emergenza coronavirus nello sport il corriere dello sport Follie da Scudetto i protagonisti di Champions Europa League e lotta Scudetto Sarri Inzaghi Conte Casperini Gattuso Fonseca rappresentanza di Juventus Lazio Inter Atalanta Napoli e Roma le squadre impegnate in lotta Scudetto sono le prime tre cioè Sarri allenate da Sarri Inzaghi e da Conte in Champions impegnati Gasperini e Gattuso con Atalanta e Napoli in Europa League c'è la Roma di Fonseca che non ha ancora iniziato il suo cammino in questa fase di scontri diretti mentre il Napoli ha giocato una sola partita col Barcellona pareggiando in casa 1-1 l'Atalanta ha completato le due partite andando a battere Valencia anche in trasferta peraltro Valencia con tanti giocatori positive Atalanta che si è messa in quarantena Atalanta è già ai quarti per quanto riguarda il resto c'è l'Inter anche che deve ancora recuperare in Europa League deve giocare le sue partite contro il Getafe e la Juventus deve giocare la gara di ritorno contro il Lione in Champions League dove aver perso la prima mentre per Inzaghi c'è una lotta scudetto ancora tutta viva e tutta da giocare la Roma deve giocare contro il Siviglia ma anche in questo caso non ha nemmeno iniziato come dicevamo il doppio confronto con gli spagnoli Spagna che è stata colpita dall'emergenza coronavirus proprio a ridosso dell'avvio di queste competizioni Juventus non solo ruga neanche Matuidi positivo notizia che ha iniziato a circolare ieri sera da quando appunto la Juventus l'ha comunicato ufficialmente sul suo sito e poi c'è una clamorosa situazione che si è verificata a Brescia con gli allenatori che sono stati esonerati da Cellino vale a dire Grosso e Corini Corini che per due volte è stato cacciato ripreso e poi cacciato ed sono stati convocati con i rispettivi staff perché evidentemente l'intento di Cellino convocandoli al lavoro in questo momento è quello di licenziarli di liberarsi dal contratto se non si presentano al campo di allenamento ma l'attività è stata sospesa dal Brescia come tutte le altre società di serie A e dunque l'AIC denuncia il Brescia per questa iniziativa i collaboratori non andranno al campo sarà battaglia legale una battaglia legale che non serve essere avvocati di grido ma anche avvocati a zecca garbugli per capire che in tribunale Cellino difficilmente riuscirà a spuntarla su una iniziativa del genere peraltro in un momento così complicato per il nostro paese per il nostro sport un'iniziativa davvero improvvida da parte del presidente del Brescia non nuovo a queste situazioni un po' particolari che lo rendono protagonista al di fuori della gestione tecnica e sportiva delle società di cui è proprietario adesso il Brescia ma in passato il Cagliari o i Leeds in Inghilterra la rassina stampa si chiude qui sono le 8 e 33 minuti vi do appuntamento alle 11 con il TG News 24 edizione live andremo avanti alle 12 ci sarà ancora una edizione live alle 15 con lo sport in collegamento con Sport Italia ed ancora alle 17 alle 19 alle 22 e 30 notiziari in continuo aggiornamento e soprattutto notizie a scorrimento sul teleschermo in continuo aggiornamento per tenervi informati costantemente sull'emergenza coronavirus e non solo grazie per averci seguito appuntamento alle 11 di nuovo in diretta su questa rete a 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 Grazie a tutti.